Il mercato di gennaio è così determinante? Prendere giocatori nella sessione invernale può farti svoltare la stagione? E in particolare, può fare svoltare la stagione del Milan? Per rispondere a questa domanda sono andato indietro di 10 anni e mi sono messo ad analizzare le sessioni di mercato rossonere dal 2013-2014 a oggi vedendo quanti giocatori abbiamo preso, quale di questi abbiano lasciato il segno e quanto la loro presenza sia stata determinante per noi. Il tutto per provare a rispondere a quella domanda. Fare mercato a gennaio serve a qualcosa? Nelle ultime 9 sessioni di calcio mercato invernale abbiamo acquistato un totale di 23 giocatori. Qualche volta abbiamo fatto centro, altre volte invece abbiamo cannato completamente. Partiamo dalla stagione 2012-2013, quella che secondo me è l'esempio lampante di come il calcio mercato invernale se fatto bene possa davvero cambiarti una stagione. Quell'anno infatti fu l'anno di Super Mario Balotelli, preso per 20 milioni di euro dal Manchester City per sostituire il partente Pato. Balotelli, all'epoca davvero uno dei migliori attaccanti italiani, stravolse la nostra stagione. E Milan iniziò il girone di ritorno con 30 punti al settimo posto ma poi trascinata a punto da Mario e per alcuni dai nostri rigori la squadra di Allegri riuscì a centrare la qualificazione in Champions acquantando il terzo posto all'ultima giornata contro il Siena grazie a Mexese a un rigore a punto di Balotelli. E proprio lui, in metà campionato, diede una mano enorme segnando 12 gol in 13 partite. Come è successo due anni prima con Fanbom e Le Cassano Gagliani dimostrò l'importanza di un mercato di gennaio fatto bene. Tuttavia sarebbero passati anni prima di rivedere qualcosa di simile al Milan. Dal gennaio 2014 in poi, infatti, iniziò un lungo periodo nero per quanto riguarda i giocatori presi a gennaio dove quelli considerabili dignitosi si poterono contare sulle dita di una mano. Nel 2014 al Milan arrivarono quattro giocatori Tarab, Ramy e Siena e Onda. Di questi, a dire il vero, soltanto Siena fece male. Tuttavia, tutti loro entrarono a far parte di una squadra che non girava in cui Allegri era stato esonerato in favore di Seedorf e che avrebbe concluso la stagione fuori dalla competizione europea per la prima volta in 15 anni. Onda non fece pressoché niente segnando un solo gol in metà stagione. Ramy non fece malissimo ma la sua avventura al Milan sarebbe finita di lì a poco. Tarab, presentatosi con un gol all'esordio contro il Napoli strappò qualche sorriso ai tifosi e mise in mostra delle qualità non comuni specialmente in termini di dribbling. Ma in un Milan senza soldi Gagliani non se la sentì di riscattarlo poi a fine stagione pagando 7 milioni al copiato. Viste anche alcune voci non proprio lusinghiere circa la sua vita fuori dal campo. In estate, infatti, sarebbero arrivati Menez e Alex dal Piaget sostituendo, di fatto, sia Tarab che Ramy. Da segnalare per quanto riguarda il mercato in uscita l'accessione in prestito di Mbaie Niang al Montpellier. Poi arrivò alla stagione 2014-2015 quella in cui forse si tocca davvero il fondo. Il Milan di Pippo Inzaghi arrivò a metà campionato all'ottavo posto deluso dalle prestazioni di Torres e Saponara e alla ricerca di rinforzi di livello. Per questo, Gagliani provò ad aiutare il suo ex numero 9. I prese Antonelli, Bocchetti, Paletta e il giovane Suso a parametro 0 dal Liverpool. Cerci in cambio di Torres dall'attritico Madrid e il sostituto del Nigno. Dalla Roma prese Mattia Destro. Di questi sei acquisti, pochi giusti era la sufficienza. Suso non giocò quasi mai. Destro realizzò soltanto tre gol. Antonelli non sfigurò. In un'epoca incognita al sino-sinistro del Milan sembrava la versione rintronata di quello precedente ma nemmeno esaltò mai più di tanto. Di Bocchetti si persero le tracce mentre Cerci fece qualche assist qua e là ma aveva ormai intrapreso la fase calante della sua carriera. Comunque, cosa diedero questi acquisti al Milan? La squadra allenata da Pippo Inzaghi passò dall'ottavo posto di gennaio al decimo di maggio. A voi i commenti. Da segnalare, per quanto riguarda il mercato in uscita l'accessione in prestito di Mbaieni anche al Geno. Le ultime due stagioni erano andate così e così ma finalmente, nella soggione 2015-2016 il Milan parvi aver capito delle cose. I ex giocatori, senza esperienza, non potevano essere allenatori. E soprattutto, comprare tanto per farlo a gennaio non serviva a niente. O meglio, questa la capirono ma fino a un certo punto. Quell'anno il Milan di Mielovic si presentò a gennaio all'ottavo posto e finì il campionato al settimo. Questa variazione in positivo, però, non dipese assolutamente dal calciomercato. Nella finestra per gli acquisti, infatti, arrivò solamente Boateng. Tornato al Milan dopo le altalenanti esperienze in Germania conclusesi con una rescissione anticipata del contratto che di fatto gli piace passare il girone da andata da svincolato. Al suo ritorno in rosso-nero, Boateng scese in campo 20 volte ma soltanto una volta per più di un'ora. Per il resto, si trattò di fugaci apparizioni di massimo 15 minuti. Da segnalare stavolta la permanenza di Nal fino al termine della stagione. Sinisa, infatti, stravedeva per lui. Nelle ultime stagioni, dunque, quasi mai il Milan era riuscito a trovare a gennaio elementi fondamentali per il proseguo della sua stagione. Lui era stato un po' taravo, qualcosina l'avevano dato destro a Antonelli mentre con Mialovic si era deciso di fare il meno possibile anche perché non c'erano soldi dopo gli acquisti di Bacca, Bertolacci e Romagnoli in estate. Poi arrivò il gennaio 2017. Poiché il closing per il passaggio di proprietà incombeva Berlusconi stabilì che non avrebbe speso ulteriori soldi per aggiustare una squadra che presto avrebbe venduto e che, a dirla tutta, non stava neanche facendo malissimo. Il Milan è nato da Montella, infatti. A gennaio aveva appena vinto la Supercoppa Italiana di Doha contro la Juve e in campionato si trovava al terzo posto. Per questo motivo, Gagliani si limitò a sostituire l'infortunato Buonaventura la cui stagione era finita. Per rimpiazzare Jack, la D portò al Milan due esterni d'attacco Ocampos e Deulofeu. Entrambi classe 94, entrambi di cui si diceva un gran bene entrambi che sarebbero diventati padri a distanza di quattro giorni ad aprile di quell'anno entrambi, ovviamente, giunti in prestito. Ocampos, arrivato dal Genoa, non lasciò praticamente nessuna traccia del suo passaggio e la sua consacrazione sarebbe giunta soltanto anni dopo. Deulofeu, invece, disputò un giro nel di ritorno da assoluto protagonista diventando ben presto un idolo dei tifosi dribbling, gol, assist una scheggia infermabile in grado di puntare chiunque e di superarlo in velocità segnò quattro gol e fornì tre assist, diventando un palino di Montella. Tuttavia, nulla di questo servì al Milan per mantenere il suo terzo posto di gennaio e la squadra terminò la propria stagione al sesto posto riuscendo almeno a strappare una qualificazione in Europa League dopo tre anni d'assenza dalle competizioni continentali e a fine stagione Ocampos tornò in Francia ed europeo al Barcellona e per l'ennesima volta il mercato di gennaio del Milan passò lasciando pochi segni. Da segnalare, per quanto riguarda il mercato in uscita l'accessione in prestito a Dimbayeni Hang al Wolfo. Nell'estate del 2017 avvenne il tanto agognato passaggio di proprietà con il Milan che finì nelle mani di Jongo Lee il quale a stavolta affidò il mercato alla coppia Fassone e Mirabelli. I due spesero circa 250 milioni di euro in estate ma a gennaio tirarono il freno a mano. Avendo portato da pochi mesi 11 nuovi giocatori a Milanello Mirabelli preferì cambiare allenatore sostituendo Montella con Gattuso anziché stare a fare ulteriori operazioni nel gennaio del 2018. La scelta pagò ma relativamente visto che il Milan passò dal decimo posto di gennaio al sesto di maggio ma credo fosse condivisibile. I giocatori come Bonuncio o Ciaranoglu nel giro di ritorno diedero grandi segni di ripresa e la squadra in generale riuscì ad amalgamarsi meglio nonostante alcuni giocatori presi in estate non riuscirono mai ad esplodere. Da segnalare che a giugno del 2017 finalmente Niang riuscì a farsi comprare da una squadra a titolo definitivo finì infatti al Torino. L'anno dopo la proprietà del Milan era di nuovo cambiata. Ad agosto infatti il fondo Elliot aveva sottratto il club dalle mani di Jongo Lee e aveva affidato il mercato a Leonardo il quale a stavolta aveva soldato Paolo Maldini. Leo a ottobre acquistò Lucas Pacchietà dal flamenco per 45 milioni di euro ma il trequartista brasiliano poteva essere ufficializzato soltanto il 4 gennaio 2019. Inoltre dopo la partenza di Guain il Milan prese la sorpresa del campionato di Serie A fino a quel momento. Christophe Piontek del Genoa attaccante polacco che nel genone d'andata aveva segnato 13 gol in 19 partite. Il Milan di Gattuso in quel momento quarto decise di prendere soltanto due giocatori centelinando gli acquisti ma provando ad azzeccarli. Piontek pagato 35 milioni segnò 9 gol in 18 partite di Serie A dimostrandosi una delle migliori punte d'Italia e facendo segnare in grande i tifosi del Milan. Pacchietà invece nello stesso periodo segnò un solo gol e fornì un solo assist senza mai brillare o dimostrare molto. Ma arrivava dall'altra parte del mondo dunque aveva bisogno di tempo per ambientarsi. I due acquisti comunque nel complesso fecero bene confermando la regola del meglio pochi ma buoni più o meno. Tuttavia il Milan non riuscì a mantenere la quarta posizione e al termine della stagione scivolò al quinto posto ma almeno stavolta diede l'impressione di aver preso due giocatori utili per il futuro impressione completamente distrutta l'anno dopo. A gennaio 2020 infatti Piontek fece le valigie partendo verso Berlino dopo un giro and'andata da dimenticare. Pacchietà a sua volta non riuscì a ritagliarsi spazio nel Milan prima di Giampaolo e poi di Pioli ma restò il rosso-nero almeno fino all'estate successiva. Quel gennaio il mercato del Milan venne fatto dalla quarta persona diversa in quattro anni. A Galliani, Mirabelli e Leonardo infatti succedette Paolo Maldini divenuto direttore dell'area sportiva dopo l'addio di Leo e Paolo confermò la linea di Elliot. Meglio pochi acquisti mirati piuttosto che una decina di giocatori che si sarebbero rivelati certamente inutili. Maldini prese Kiev dall'Atalanta in cambio di Caldara acquistò lo sconosciuto belga Salmequer dall'Anderlecht e riportò a Milano Zlatan Ibrahimovic dopo un'assenza di dieci anni. A questi tre acquisti Maldini aggiunse il portiere Begovic sostituto del partente Reina e il ritorno di Laxal preso per rimpiazzare Rodriguez. Questi ultimi due restarono giusto il tempo di assistere al lockdown e alla rinascita del Milan di Pioli come spettatori. I primi tre però divennero pedine fondamentali di un Milan improvvisamente divenuto una grande squadra. Il cambio di passo del Milan sicuramente fu dovuto a numerosi fattori ma l'aver trovato un leader difensivo l'aver trovato un ventenne in grado di giocare in ogni ruolo del campo e l'aver riportato a casa Zlatan di certo contribuì al tutto. Ibra infatti quell'anno finì per essere il secondo miglior marcatore del Milan. Kier si rivelò uno dei più grandi difensori degli ultimi anni e Salmequer tutt'oggi è uno dei giocatori più utilizzati da Pioli. Quel Milan dal decimo posto di gennaio termina la stagione al sesto vincendo praticamente ogni partita una volta ripreso il campionato a giugno. Quindi dopo anni per la prima volta a gennaio il Milan riuscì ad azzecare non uno ma tre acquisti divenuti poi titolari fissi nelle stagioni successive. E infine arriviamo all'ultimo mercato di gennaio quello del 2021. Un anno fa Maldini e Massara presero tre giocatori Meite, Mangiukic e Fikai Otomori. Dell'ex difensore del Chelsea abbiamo già parlato ampiamente ed è inutile ripetere per l'ennesima volta che acquisto sia stato semplicemente Tomori non è stato soltanto uno dei miglior acquisti di gennaio del Milan è stato in generale uno dei miglior acquisti della Serie A degli ultimi dieci anni pagato 25 milioni Fikai è già un leader del Milan un idolo dei tifosi e uno dei centrali di difesa più forti d'Europa gli altri due acquisti invece non diedero niente Mangiukic dopo un anno di sostanziali attività in Qatar non giocò pressoché mai infortunandosi a ripetizione e finendo per decidere di autosospendersi lo stipendio Meite onestamente non ricordo se si è sceso in campo per più di tre volte quindi cosa possiamo trarre da questa lunga disamina vedendo la quantità di nomi passati per Milanello senza lasciare traccia credo che ci siano tre cose che possiamo notare circa il mercato di gennaio innanzitutto difficilmente il mercato da solo può cambiare le cose Balotelli ci portò in Champions ma fu un caso quasi unico nel 2016 e nel 2018 miglioravamo la nostra classifica senza fare mercato ma trovando soluzioni con i giocatori che già avevamo nel 2020 gli arrivi di Ibra, Kier e Salme Kers hanno inciso parecchio ma la squadra già si stava riprendendo con Pioni e se non ci fosse stata un'evoluzione di tutti gli altri già presenti forse Kier e Salme Kers avrebbero fatto la fine dei tanti arrivati prima di loro Ibra non credo visto che ci ha messo dieci minuti a riprendersi la scena dei 23 acquisti fatti nelle ultime nove sessioni quelli promossi sono pochi Ibra, Kier, Salme Kers Tomori, Piontek almeno per i primi mesi e un po' Deulofeo e Tarab 7 su 23 meno di un terzo di questi 7 soltanto gli ultimi si dovranno aver convinto appieno e sono riusciti a restare al Milan da titolari per almeno un anno in interrotto anche Balotelli dai e in generale possiamo notare che quelli presi da Maldini salvo alcuni abbagli clamorosi come Mangiukic siano quelli più affidabili fare acquisti a gennaio sembra quindi utile a patto che se ne facciano pochi e che questi siano sensati se la squadra gira e se si riesce a far migliorare chi c'ha già prendere uno o due giocatori decisivi a gennaio può fare davvero la differenza in positivo ma prendere per prendere pare senza senso quest'anno parliamo di mille giocatori in mille reparti ma abbiamo visto come sia poi facile che i nuovi arrivati si rivelino del tutto inutili Maldini e Massarno hanno dimostrato di voler prendere pochi giocatori a gennaio solitamente uno per reparto due anni fa li hanno azzecati quasi tutti l'anno scorso soltanto Tomori quest'anno con il Milan che ha il secondo posto e al momento è il grosso problema degli infortuni è difficile prevedere cosa faranno se mi dovessi sbilanciare mi aspetto un paio di acquisti magari uno in difesa e uno a centrocampo in attacco storicamente a gennaio ci è andata male la destra a Ocampos passando per Botain, Mangiukic, Cerci abbiamo pescato Balotelli più ante che Ibra ma per i primi due abbiamo dovuto sborsare cifre che in questo momento non so se siano fattibili la nostra rosa già ora è super competitiva se non avessimo mille infortuni non ci sarebbero problemi avendo tanti giocatori fuori è normale che il mercato ora sembri l'unica soluzione possibile ma ripeto comprare per comprare non ha senso uno o due giocatori in più possono essere decisivi ma alla fine sarà necessario limitare al massimo tutti questi infortuni il mercato di gennaio da solo alla fine non serve pressoché a niente l'unica soluzione